Mi chiamo Mario Papadia e vi invito alla lettura di questo mio libro In principio era la femmina. Il mio mestiere è quello di psicoterapeuta, counseling, di insegnante e scrivo anche a livello saggistico e letterario. In principio era la femmina e invece è un poema. Parte dalle origini con al centro la femmina prima e vi si narra lo smarrimento dell'umana specie che scopre se stessa quale esperimento di torsione e ruota attorno allo psicodramma di colui che si definisce il suo fabbricatore, il fabbricatore di questa specie antagonista della femmina prima, riduttante autore della storia. Lo stile della scrittura è forte, immaginifico e ne risulta un fantasy dal vigore epico, un romanzo breve tra William Blake e Philip Dick. Leggetelo. Grazie. 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 Grazie.